Al prossimo episodio Ssss Ssss Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Nei giorni scorsi ho avuto il piacere di scambiare due parole con alcuni nuovi aspiranti re dei pirati che si sono lamentati del prezzo e della scarsità di alcune carte necessarie per costruire dei deck. Ascoltandoli parlare, quindi, ho deciso di chiarire in breve, senza entrare troppo nel merito, e secondo il mio personale punto di vista, quali sono state le cause degli aumenti dei prezzi di alcune carte presenti in questo TCG, attraverso tre fattori determinanti e il perché dovremmo invece ringraziare il mercato secondario, o meglio, solo un aspetto di esso, la quale assenza avrebbe davvero relegato questo gioco di carte collezionabili al mero e puro fattore speculativo. Prima di iniziare, volevo invitarvi ad iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Per voi è solamente un click del mouse o un tap sullo schermo dello smartphone, per noi invece è molto importante, così riusciremo a creare e apportare contenuti sempre più interessanti e ricercati. Grazie infinite in anticipo. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme quali sono state le motivazioni che hanno visto l'aumento di prezzo di alcune carte presenti nel TCG di One Piece. Andiamo a dargli un'occhiata. Domanda ed offerta. Primo fattore in assoluto che sempre determina e andrà a determinare l'aumento o il calo di una qualsiasi merce, che si parli di carte collezionabili, oro, bestiame, eccetera. Analizziamo per bene la situazione durante l'uscita del gioco a dicembre. Appena pubblicato c'è stato un vero e proprio assalto all'arma bianca che in poche settimane ha visto scarsità del prodotto praticamente ovunque, sia in termini di box che di starter deck. Allo stesso tempo però l'eccitazione del momento ha spinto giocatori e collezionisti ad avvicinarsi al gioco e ciò ha generato una forte domanda. Domanda che non ha trovato soddisfazione in un'offerta adeguata. Quindi per la legge del mercato la crescente richiesta e la scarsità di offerta hanno spinto il prezzo della materia prima, in questo caso le carte, verso un aumento sempre più crescente. E prima dell'arrivo dello strumento che ha calmerato i prezzi, ponendo un freno a questa galoppata trionfale verso l'oro, scherzando mi piace dire che nei primissimi periodi di vita del gioco acquistare una carta avrebbe significato in tutto e per tutto possedere lo One Piece, su eBay si riuscivano a trovare degli Zoro reperibili in questo periodo intorno ai 30 euro, anche a cifre che si aggiravano sui 40-45 euro. E sarà proprio prendendo ad esempio lo spadaccino che entreremo più nel dettaglio nel trattare il secondo fattore principale. La grande giocabilità di alcune carte. Zoro, Boa, Kaido a costo 10, Low Blocker e Kid a costo 8 sono i rappresentanti principali se si vuole parlare di elementi indispensabili da integrare all'interno di un deck di un qualsivoglia colore. E come in ogni TCG che si rispetti il prezzo di una carta è dovuto anche dal fatto che si giochi nel metacorrente o meno. Ed essendo praticamente agli inizi ogni carta che possedeva un certo riflesso che andasse oltre il tipico monocromatico che caratterizza le rare ha trovato posto in una lista. In automatico le carte giocandole hanno incrementato il loro potere a livello di ricercatezza della serie. Ehi, se lui o lei gioca quella carta X e vince, perché non dovrei farlo anche io? E così anche l'impiegare carte comuni ma che allo stesso tempo trovavano quasi sempre posto in una lista, vedasi tra Falgar a costo 1 Blocker Blu, i Capone, le Bonny, i Chopper Blocker, le Otama e quant'altro, hanno fatto sì che a singola carta venisse assegnato un determinato prezzo. Ad esempio, per le Otama si riusciva a reperire il playset a non meno di 4 euro, mentre ora, card market alla mano, si trovano agevolmente a 5 centesimi l'una. Ed è proprio l'arrivo del gioco sulla piattaforma numero 1 al mondo, nata appositamente per generare scambi di carte collezionabili, che si è dato uno stop deciso alla crescita spropositata dei prezzi. Ma fino al suo avvento? L'assenza sul mercato di un punto di riferimento comune Prima di card market, gli scambi avvenivano su tre canali principali, eBay, Vinted e la pagina Facebook One Piece Station, per non tacere dei gruppi secondari più piccoli ma che allo stesso tempo generavano compravendite. Quindi non si aveva un quadro generale della situazione, anche perché, a parte la station, la Baia e Vinted non sono mai state piattaforme targettizzate su un singolo prodotto, ma più come un mercatino dell'usato online, a differenza di car market, che è nato solo ed esclusivamente per il mondo dei TCG. E qui credo siamo tutti d'accordo. Quindi da quando One Piece è arrivato sulla piattaforma tedesca, di certo il mercato ha trovato una sorta di stabilità. Anche perché, cercando delle carte nel catalogo, si avrà sempre un prezzo più basso ed uno più alto, certo, ma ci si potrà fare un'idea immediata della tendenza di mercato di un elemento nello specifico, cosa che prima invece era praticamente impossibile fare. In più arriverà anche il nostrano CarTrader, prima o poi, quindi ci saranno ben due piattaforme dedicate che lentamente scinderanno il mercato in due. Per queste prime, giocatori ed una parte di collezionisti, troveranno terreno fertile, mentre eBay e Vinted sarà di esclusiva competenza dei collezionisti più incalliti. Eventuali soluzioni Ok Arconte, ma il problema rimane. Ad oggi continuano a non trovarsi carte sul mercato o box e starter da acquistare. Vero? Ed è per questo che da quando ho iniziato a giocare a One Piece mi sono messo a cercare diverse soluzioni. Tre per la precisione. La prima, partire da quello che si ha e se non si ha nulla, iniziare da qualche parte. Ad esempio concentrarsi sui colori che attualmente costano meno, come il blu ed il viola spesso combinati tra loro, e reperire le carte presenti in una profile. Qui sopra troverete la playlist di quelle pubblicate qui sul canale. Una volta fatto ciò, dovrete cercare di reperire, magari dallo stesso venditore, la maggior parte delle carte presenti nel mazzo ed infine procedere con l'ordine. La seconda soluzione sarà quella di farsi prestare le carte per un evento. Magari state aspettando delle spedizioni che hanno tardato ad arrivare e ciò potrebbe compromettere la vostra presenza in un torneo. Ebbene, se si tratterà di poche carte, potrete tranquillamente chiedere nei gruppi della vostra community se qualche buon samaritano avrà proprio gli elementi che vi mancheranno. Altrimenti soluzione 2.1 potrete optare, se i partecipanti all'evento saranno d'accordo per l'utilizzo di proxy, fatti di necessità virtù. Terza ed ultima problematica risolta vedrà la via più breve, ovvero acquistare i vari starter ancora presenti in mercato, come quello fresco fresco di Shanks. Non se ne trovano più arconte! Fermi, contattando Grande Inverno, in descrizione vi lascerò l'indirizzo alla sua pagina Facebook, riuscirete ad acquistare la vostra o le vostre copie personali, fino ovviamente ad esaurimento scorte. Ne sono disponibili più di 20, quindi affrettatevi. E così, avendo a disposizione uno starter pronto all'uso, almeno potrete iniziare a giocare, comprendendo al meglio le dinamiche di questo meraviglioso TCG. Queste sono al momento le varie soluzioni per risolvere le problematiche correlate alla scarsità di offerta, e se ne avrete altre, scrivetele qui sotto, così da fornire all'intera community sempre più spunti dai quali trarre vantaggio. E voi, cosa ne pensate dei punti che abbiamo trattato in questo contenuto? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video.